Siamo giunti alla quinta, buona moneta per solo femmine e anziane sul miglio, otto in prima, una in seconda e proprio questo in seconda, right storico, Gaetano Di Nardi, la più gettonata al totalizzatore mezzo meccanico in movimento per questa quinta del convegno, distanza del miglio, solo femmine e anziane Arretrato il set di Siada Spirits e anche la Pepita che poi tenta di prendere le ali Via la macchina in velocità E a largo di tutti la solid, fluente, partenza super volante del buon omino Siculo e scende nei confronti di Rueda che taglia a largo la Sibilla Il lancio in 13 e 3, la Sibilla può parcheggiare Rupan Griff per linee esterne, mentre fa già una mezza ruota, right story Si va al completamento dei 400 29, right story prende la scia della Rupan Griff e anche la Pepita nella scia di Right Story Già a doppia fila dopo 600, andatura brillante, 43 e 3 da 1, 12 e 2 Le cavalli affrontano la penultima curva, in pull, solen to front, con a largo Rupan Griff Di dentro Rueda Mezzo miglio in 58 e 8, 15 e mezzo di frazione Le cavalli affrontano il penultimo rettilineo, andatura brillante E si va al chilometro, nell'ordine del 13 e mezzo, 14 e 7 di frazione Solet, fluente, sempre leader Viene via la favorita right story E la Ganymede punta in avanti Ma galoppa 14 e 2, 1, 27 e 7 Scappa via Lomino Scappa via con questa ennesima Ganymede Ma ce ne sono ancora 200 da percorrere Rupan sempre Galoppa anche la leader E viene via la Pepita E anche oggi è d'oro La Pepita anche oggi è d'oro colato Doro, questa Pepita Con il giovane Petit Francesin Per il terzo, sul traguardo La Sibilla Pizzica L'avversaria 1, 58 e 1 1, 13 e 8 Litigavano le due Ganymede Ma alla fine chi ha vinto? Un'ennesima Varenne Pilotata al meglio Dal Petit Francesin Il fratello pieno lì a Milano Ma lui si fa onore qua Quindi signori Chapeau A questo team Minopoli 3, 11 in chiusura Per la Pepita Per la Pepita d'oro Lineo allo studio Ciao a tutti ieri Grazie a tutti.